everybody make it bow salve a tutti amici di youtube benvenuti in questo nuovo video da Super Diego Killer in cui vi mostro la pokemon versione bianca 2 una nuova parte della nostra mitica guida degli eventi che l'ho iniziata all'inizio del secolo e siamo quasi a fine del secolo e non l'ho ancora finita allora ragazzi diciamo che col desmume ci sono stato qua tipo 4 ore per capire come avere una grafica buona con il desmume un po' grosso e guardate che fortuna abbiamo qua per voi una grafica alta così posso videare bene a schermintero e non c'è nessun problema io voglio solo vedere su pokemon platino poi come sarà la storia ma sarà una merda come posso vedere guardate c'è lagga da madonna però però ragazzi forse ho capito anche un po' il problema perché forse perché sto videando e quindi il desmume va un po' più lento se forse io ci giocherei senza videare sarebbe molto meglio quindi già già bisogno di scuso subito per questo piccolo inconveniente passiamo subito alla cosa più importante che in pratica è la è che oggi andiamo a catturare Cresselia è uno dei pokemon che manca e quindi ovviamente allora intanto guardate questa è la mia squadra lasciate stare l'Andorus forma totem ovviamente vi rimando se mi ricordo dopo vi metto il link in descrizione del video per come ottenerlo usando un programma usando un programma che è molto difficile perché è tutto scritto in giapponese quindi ahimè non posso farci niente e quindi andiamo subito con volo e andiamo a Poggiovento dove dobbiamo appunto per catturare Cresselia appunto ci serve l'Ala Lunare madonna mia eh lagga lagga che è una meraviglia allora un bel repellente vediamo se ok intanto abbiamo Chure in bianco livello 70 qui i pokemon non ci vanno allora andiamo a destra ed entriamo in questa casa stranissima qui allora si chiama la casa bizzarra ok ragazzi già già da quanto pare che si muovono i si muovono i divani si muovono i vasi già non è andata la casa già già da quanto pare però comunque dobbiamo in pratica passare di sotto dovremmo passare qua di sotto un po' di volte allora intanto prendiamo la spettro targa ok e andiamo qua di sopra e da come vedete già qualcosa si è cambiato porca di quella troia ragazzi stop ho vato sto allenatore e ci vediamo dopo ok l'abbiamo battuto madonna mia va bene non entrerò più in nessun'altra porticina di queste stranissime ok andiamo avanti dobbiamo passare per di qua e what the fuck no vabbè lo sapevo già sono in scuola tutte le regioni della notte papà mamma abbra abbra vabbè dove siete? boh in culo ok passiamo di qua aspetta il repellente è finito ci sono irattata qua che mi rompono i coglioni quindi vabbè allora noi in pratica dobbiamo sempre ecco guardate anche le sedie che si muovono aspetta si può passare di lì? si 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 può passare di qua andiamo a prendere la pokemon perché credo che io non entrerò mai più dopo di qua allora ok ok e adesso non mi ricordo più ah si ecco adesso si può si può passare per le scale di là di sopra eh ancora oh se sono usciti a fare la spesa i tuoi genitori non è colpa mia madonna mia da profondo il sogno oscuro ho sentito la voce di mio padre dimentica l'ala lunare mi ricordo di stare un po' con me no con te no ma comunque dobbiamo entrare di qua ed eccola qui questa è l'ala lunare quella che ci serve per Cresselia beh a mo alcuna bene oh la lunare non è troppo tardi ma non importa per favore istituiscila al pokemon a cui appartiene io speravo di incontrarlo su questo ponte dove ho aspettato tanto su questo ponte allora in poche parole già ci dice che dobbiamo andare su un ponte per poter catturare questo pokemon e ovviamente io sto qua nel ponte penso c'è un'altra casa che mi sono rotti i coglioni allora aspettate allora in poche parole il ponte è il ponte delle meraviglie cioè questo qua quindi dobbiamo andare a sciroccopoli con volo quindi flygon volo verso sciroccopoli speriamo di aver battuto tutti gli allenatori perchè veramente se no è uno schifo ok raga corriamo perchè se uso la bicicletta lagherebbe in una maniera veramente assurda quindi piuttosto corriamo cos'è sta roba chi è parlo con Ash ah si vabbè non mi stai aspettando se ti piacerebbe passare il tempo oh un collega mi sta chiamando ora devo tornare a lavoro spero di sentirti presto ciao ciao in poche parole in pratica io tra gli strumenti base ho un interpoket che ho perso e quindi ogni volta che sono in qualche posto intanto in tanto il la persona che ha questo oggetto mi chiama sempre allora eccolo qua questo è il ponte delle meraviglie e dovremmo andare verso tipo il mezzo se non mi ricordo male ecco qua no scusate lol trollata dal gioco oh ecco qua alla lunare comincia a brillare vuoi provare a tenerla? si cosa fa? eccolo e parte la lotta e parte la lotta eccolo qui ragazzi miei crescendo a livello 68 femmina perché è solo femmina quindi ragazzi non provate perché non provate ad averlo maschio perché è impossibile adesso scusate un attimo allora codici lista sì ok salva ok già attivo ragazzi non ci ho voglia di sta qua cervellarmi a a catturarlo con a provare a catturarlo da solo perché ci ho provato una volta guarda mi è bastato solo quella e quindi mo lo catturiamo così con trucchetto e chi si è visto si è visto ok Cresselia un pokemon falcatto numero 488 ovviamente Cresselia è un pokemon della regione di signo quindi farà parte anche della guida degli eventi di pokemon platino pokemon che ci vorrà credo due o tre parti prima di andare a appunto a catturarlo e ragazzi miei abbiamo praticamente concluso il video e adesso vi lascio all'immagine del mio curem bianco e ragazzi miei è da super diego killer insieme a il mio amico curem bianco lol ragazzi io vi lascio al prossimo video in cui andremo a catturare credo credo latte o solatias a seconda del gioco qua non mi ricordo se è latte o solatias tanto comunque o uno o l'altro quindi ragazzi da super diego killer è tutto e iscrivetevi commentate mettete un bel mi piace e solite altre cose e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti